solo che convinco a ciccia a parlare in italiano e per il resto sarà un po difficile quindi bisognerà fare di nuovo 45 ore di video per trarne all'incirca 2-3 minuti allora stiamo aspettando la barca di Barrella Rent qui a Salerno se avete bisogno di una barca quest'estate qui a Salerno mi ricordo Barrella Rent se volete contatti eventualmente ormai questo è diventato un video pubblicitario mi mandate un messaggio in privato e vi faccio avere uno sconticino ciccio che dici Alfonso glielo dà uno sconto agli amici eventualmente 10% di sconto agli amici di Facebook agli amici di YouTube e di Facebook un 10% di sconto Alfonso lo farà comunque persi a parte stiamo veramente aspettando la barca una delle barche di Alfonso che deve scendere oggi a mare e per inaugurare la stagione balneare dopo averlo fatto già a Barcellona lo facciamo pure oggi a Salerno abbiamo anche il sorritore professionista quello che saluta sempre quello che chiede scuse in continuazione e guardate questo alla mie spalle praticamente non so se si vede bene perché non so se sto controluce oppure no comunque il crash ed è questo qua alle mie spalle che è ancora in costruzione però è qua da quest'altra parte c'è la nuova stazione marittima quindi se volete visitare Salerno non vi perdete la stazione marittima tra poco faccio una piccola panoramica della costiera e noi se non facciamo tardi andiamo a mangiare a con catemarini con la fame che ha ciccio dobbiamo per forza andare nonostante stasera abbiamo un battetto e ieri sera abbiamo mangiato tre primi di pasto e un secondo ma io è fatto e ciccio non c'era comunque a parte gli iscritti se avete bisogno di una barca a Salerno mandatevi un messaggio in privato che vi faccio conoscere Alfonsino l'autista ha fatto tardi e quindi non andiamo più a conca probabilmente ma ci siamo fermati alla bulangeria questo è il secondo secondo che mangiamo che praticamente l'abbiamo fatto riempire di che ci stava pizzette, focacce e roba pare e qua dentro ci sembra un odore di mortadella imperibile perché c'è una focaccione enorme piena di mortadella l'abbiamo fatta a tagliare la lavora gentilmente tagliata vediamo un po non la far cadere proprio alla bulangeria via dei principati e per strada saranno due chilometri da qua l'abbiamo già praticamente uno è finito più volte mangiato la barca è arrivata, andiamo a fare il primo bagnetto qua a Salerno dell'anno ciccio ti vuole tuffare si tuffo dai ci vuole tuffare Grazie Fredda? C'è un porcino, guardate qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua Il salutatore Questa è la situazione della barca da un uomo La part è che vero la barca Sì Non Gli stai Gli stai ed ecco la guardate la briciole di taratti con l'acqua altre briciole è incredibile liquido frott Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma ci siamo lo stesso buffati. Ci siamo lo stesso buffati. Noi vi salutiamo. Ciao. Grazie a tutti.